Sostanzialmente quelli che avranno un impatto forte sulla città dal punto di vista viabilistico la rotatoria di Largo Tre Martiri che in approvazione andrà in gara le prossime settimane la ciclabile di Via Fratti, la ciclovia adriatica di Colombarone che permetterà il collegamento con il comune di Gabice quindi dal punto di vista viabilistico questi sono interventi molto importanti dovrebbe partire anche la ciclabile di collegamento tra Vismara e Torraccia anche quello che darà un respiro diverso rispetto al collegamento col mare con la parte commerciale dei quartieri di Vismara con il resto della città partiranno sicuramente i lavori della nuova palestra di Via La Marmora per un importo di 3 milioni 200 erotti e partiranno con la fine dell'anno scolastico i lavori alla scuola Dante Alighieri vedranno il completamento anche di interventi relativi all'efficientamento energetico delle scuole di Via Leoncavallo quindi la scuola elementare di Via Leoncavallo e la materna della Grande Quercia quindi tutti interventi che sono relativi alle scuole e che presumibilmente vedranno l'inizio e la fine nel 2022 un altro intervento importante che partirà appunto nel 2022 sarà l'intervento decisivo sulle cavalca ferrovia che è stato oggetto anche di polemiche e discussioni per tanti mesi noi avevamo atteso un finanziamento di 3 milioni dal Ministero degli Interni che è stato certificato nel 2021 ma è esigibilitato nel 2022 e a questo punto noi potremo andare in gara e in accordo con RFI fare il lavoro il lavoro è un lavoro complesso ovviamente perché interveniamo sopra la linea ferroviaria dal punto di vista dei tempi di organizzazione e di gestione del lavoro siamo già in contatto con Ferrovie per avere un progetto pronto e definitivo che poi non ci porta a perdere ulteriore tempo nel momento in cui faremo l'affidamento dei lavori direi che il cavalca ferrovia è una di quelle cose a cui teniamo in maniera particolare partirà anche il collegamento, il bando delle periferie con la ciclabile lungo il fiume Foglia e il ponte di collegamento e partirà anche il bike hub che realizzeremo sotto il cavalca ferrovia anche quello contribuirà a dare una nuova vita a quel pezzo di città che per noi ridosso dalla linea ferroviaria tra la ferrovia e il parco Miralfiore in qualche modo è stata una situazione un po' critica che comunque andremo a risolvere da qui a breve